questo è il parco del centro espositivo antonio berti che si sta preparando per i centri estivi gioco e teatro di zera e palco libera tutti quindi stiamo preparando oltre al parco dove i bambini ragazzi potranno correre e stare all'aria aperta c'è anche scusate ma è tutto in diretta sono incagliato c'è anche il padiglione un padiglione di più di 100 metri quadri nel quale possiamo stare belli distanziati in sicurezza e provare a capire com'è il gioco del teatro insieme agli operatori di zera di palco libera tutti e il sottoscritto ho detto faccio il video perché perché sennò poi non lo faccio ci vediamo ai centri estivi iscriviti al canale